Siamo in autobus, Buccioni fa da cicerone, Buccioni scusa, abbiamo anche Marcello con noi, lanciare la zia Fabiola, lanciare la zia non siede, magari un cazzone che gli manca la manna, la manna ci mancita, insieme è un parolone, però, mi ricordo di specificare, stanno in trezza, ci sono pure io, lui dice che stare insieme, no, perché lui può sentire, la strada, il maestro, il maestro vino, siamo a completo, non fa parte di lui, è uguale, però è Marcello, Gino Bramiari non è lì, Katma, si ma adesso a noi qua non ci fanno entrare, capito Davide? Sì, no, no, voi non si fanno entrare, ok? Io andando a prendere il passo, ma ora ci andrò, tu, 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 c'è il davide mio qua. C'è una camminerina da bulletto. C'è una camminerina, ma ora ci andrò, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu è che lui non ha fatto proprio niente durante il mese non ha fatto niente sai che manca lo schermo qua ecco però non è certo è fresco è benedì è benedì è tutto spento guarda quanta disse il nuovo di 150 volte poi se mi tocca che il manager che è con un rato la bucciuno ma vedi che all'incontro quello di Tira Tanti è stata dentro la parola d'avvocato a Davide la bucciuno la bucciuno la bucciuno questo no il corbidone sembra questo pezzo di video sarà colore per far notare la sciccheria del tricolore come si suggerisce il bot se l'arrivo l'arrivo il bot il bot il bot il bot il bot però si cerca da ragionare non si racconti non incontri del normale mese a buone donne troppo passivi no 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 sempre io a inizio a inizio non parto però non è non parto non puoi fare io mi fai messi questa e devi guardare quello che fai e devi guardare quello che fai poi sentimi a lei ma l'ha lavorato l'ha lavorato troppo forse è finito adesso e ci sono le ragazze fra ah non voglio andare via il prossimo studio non mi ricordo io sì sì non voglio fare voi non 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 il giudice al mondiale con anche un match la vela scurio il giudice al mondiale 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 il giudice al mondiale